sembra un po' il bosco di sequoia, ma in realtà è un altro parco, Yosemite buongiorno, oggi siamo a Yosemite, famoso per il suo bellissimo panorama e non per le sequoie giganti nonostante ci sia anche qua un bosco di sequoie giganti che però non abbiamo visitato dato che noi abbiamo già visto un bosco di sequoie ancora più giganti siamo già entrate in tutte le sequoie giganti possibili, immaginati comunque siamo sulla strada che ci porterà nel cuore della Yosemite Valley e siamo in questo bosco di abeti, di pini, di alberi di montagna siamo intorno a 1700 metri ma non si sente ma non si sente, fa caldo la strada è come al solito molto larga e tranquilla sulla sinistra si vedono un po' di valli però per il momento siamo proprio nel cuore del bosco quindi forse adesso qua si riesce a vedere qualcosa vediamo, vediamo su questa curva non so, qualcosa si si, ci sono un po' di montagne con le bosche siamo immersi nel verde anche oggi un'altra bella giornata di aria fresca no, di aria fresca no di aria pulita di aria pulita e di verde, di piante, di animali l'obiettivo di oggi vale incontrare quale animale? il puma il puma il puma il puma cioè l'obiettivo è di non incontrarlo magari però ce ne sono di puma cioè gli facciamo un video ovvio mentre tu scappi vale io faccio un video a te che scappi dal puma si, si, e poi il puma viene da te io faccio un po' di